Un milione di metri cubi di rifiuti industriali, commerciali e artigianali potranno essere smaltiti a Grasciano, nel comune di Notaresco, in una nuova discarica che una società bresciana intende realizzare nell'area collinare a ridosso dell'impianto di stoccaggio e trattamento del pattume dell'ex CIRSU. Il progetto è stato presentato alla regione Abruzzo, che ora dovrà valutare la richiesta di autorizzazione ambientale insieme al comune di Notaresco e alla provincia di Teramo e ad altri enti competenti in una conferenza dei servizi. Se il nulla osta definitivo arriverà, la società proponente potrà trasformare ulteriormente il versante della vallata del Tordino a ridosso della Teramo Mare. L'impianto, che prevede un investimento da 14,5 milioni di euro, non riceverà materiale degradabile, come scarti alimentari e altro pattume domestico, per cui non sarà dotato di un sistema di recupero dei biogas prodotti dalla frazione organica. Avrà invece una barriera geologica per evitare l'inquinamento del suolo e delle acque di falda dovuto a eventuali infiltrazioni del percolato. Il progetto prevede una distribuzione in quattro lotti per l'invaso, che mira ad avere un'utenza regionale, ma anche da fuori Abruzzo. Le stime indicano un conferimento medio annuli 75 mila tonnellate, per cui la vita operativa dell'impianto è calcolata in 13 anni. Allo spirale del termine partirà poi la bonifica. Un progetto che però potrebbe creare delle opposizioni da parte dell'Associazione Ambientaliste. Inoltre il sindaco di Notaresco, Tony Giambittorio, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato di non essere a conoscenza di nessun progetto per quell'area.